Ciao bimbi, buongiorno a tutti! Oggi con questo video proviamo a lavorare un po' tutti insieme e guardate quale sarà l'argomento che tratteremo analisi logica io sono molto fortunata, anche se sono a casa posso continuare ad usare queste bellissime pennine della lavagna interattiva Allora, vi ricordate con quale personaggio facevamo le nostre analisi della frase? Eccolo qua, è lui, il polipo Octopus Vi ricordate che l'avevamo attaccato e ne avevamo preparato uno col cartoncino e l'avevamo attaccato all'armadio, quello vicino alle finestre dietro la cattedra Ogni posticino del nostro polipo corrisponde ad una parte della frase La parte più importante di tutte, quella che ci dobbiamo sempre ricordare di cercare per prima è il predicato, cioè il verbo, l'azione, quello che viene fatto l'azione che qualcuno o qualcosa sta facendo e il posto in cui si va a sistemare il predicato anche il verbo, per capirci meglio è proprio sulla bocca del nostro polipo Una volta che in una frase abbiamo sistemato il predicato possiamo andare a cercare il soggetto Il soggetto risponde alla domandina Chi o che cosa ha fatto quell'azione? Quindi io devo andare a vedere il mio predicato sulla faccia del polipo e chiedermi Chi ha fatto questa cosa? Oppure che cosa ha fatto questo? E così trovo il soggetto Il soggetto, vedete, lo andiamo a sistemare proprio dove il nostro polipo ha una zampettina qui, un po', una zampettina, un tentacolo, scusate Vedete che sembra che ci si può appoggiare sopra qualcosa Qui ci andiamo a scrivere il soggetto Trovato il predicato, trovato il soggetto allora ci rimangono tutti gli altri sintagmi I sintagmi sono tutte le parti in cui possiamo dividere una frase E se vi ricordate avevamo imparato che ogni pezzettino, ogni sintagma risponde a una domanda diversa Le domande a cui possono rispondere sono tantissime Io qui ve ne ho messe alcune tipo cosa, dove, quando, perché, a chi, di chi, come Ce ne sono anche altre in realtà però noi cominciamo a ricordarci di queste Perfetto, possiamo cominciare Iniziamo subito con la nostra prima frase Eccola qua Il cane dorme nella cuccia Allora, abbiamo detto che la prima cosa che dobbiamo fare è cercare qual è il verbo, il predicato cioè l'azione Qui la nostra azione è dorme Siete d'accordo? Quindi prendiamo via il predicato Lo tagliamo proprio via Voi avrete delle striscette di carta su cui scrivete le vostre frasi che poi dividete nei vari sintagmi Prendiamo via dorme e lo andiamo a posizionare proprio sulla bocca del polipo Eccolo qui Dorme Una volta che abbiamo sistemato il predicato andiamo a cercare il soggetto Cioè, ci dobbiamo chiedere Chi è che dorme? Il cane, ovviamente E allora Lo prendiamo Lo tagliamo Io lo faccio così ma voi lo fate con le forbici e la vostra carta e lo andiamo a posizionare su questo tentacolo A questo punto cerchiamo gli altri sintagmi In questo caso ne abbiamo uno solo che è nella cuccia Lo possiamo prendere Tagliare e andare a incollare qui sotto in un altro vicino ad un altro tentacolo Lo vado a mettere un po' più in piccolo altrimenti non si vede Già che ci siamo ci chiediamo anche a che domandina risponde questo pezzettino di frase Quindi abbiamo Dorme Chi dorme? Il cane E poi ci chiediamo anche Dove? Nella cuccia Ed ecco qua sistemata la nostra frase sul polipo Vedete che è molto semplice A scuola eravate diventati tutti bravissimi a farlo Possiamo passare alla prossima Il papà domani andrà al supermercato Allora Tanto per cominciare nella mia mente comincio a dividermi la frase in tutti i sintagmi in tutti i pezzettini Ognuno risponde a una domanda diversa Poi vado a cercare il predicato il verbo In questo caso il verbo è un verbo al futuro Ed è andrà Lo prendo Lo taglio E lo devo Non ho sbagliato posto Andare a mettere sulla bocca del polipo Perché è la cosa È il pezzettino più importante della frase È quello che ci permette di analizzare tutto il resto Adesso che abbiamo trovato il predicato Andrà Ci chiediamo Chi è che andrà al supermercato domani E questo è il soggetto Ed è il papà Lo prendo Lo taglio Lo incollo E lo andiamo a mettere su questo tentacolo Il tentacolo del soggetto È l'unico tentacolo fisso Diciamo Gli altri Non importa a quale domandina rispondono Noi li possiamo Andiamo in ordine Ok? Non devono sempre rispondere alla stessa domanda Però quello del soggetto invece rimane sempre lo stesso Andiamo avanti E ci chiediamo adesso a quale domandina possiamo rispondere Domani al supermercato Secondo voi sono due sintagmi o è uno solo? Sono due perché rispondono a due domandine diverse Domani che tagliamo e andiamo ad incollarci qua giù risponde alla domandina Quando? Quando è che il papà andrà al supermercato? Domani e invece al supermercato risponde alla domandina Dove? Dov'è che andrà al papà? Al supermercato Eccolo qui In questo caso nella nostra frase avevamo un predicato con il suo soggetto e due altri pezzettini si chiamano possiamo cominciare l'avevamo forse già cominciato a dire a scuola si chiamano complementi sono dei pezzettini che completano la frase ok? Ops perfetto possiamo passare a fare un'altra frase ancora l'ultima Marco gioca con i lego solito giochino la prima cosa che faccio è trovare il verbo il predicato che in questo caso è gioca lo prendo lo taglio e lo vado a incollare sulla bocca del polipo poi mi chiedo per scoprire chi è il soggetto chi è che gioca? Marco fate ma ogni tanto incastra tutto quindi prendo Marco che è il soggetto e lo vado a mettere sul suo tentacolone e qui provo a pensare con i lego è un solo sintagma o sono due? A quante domandine mi risponde? Marco gioca con che cosa? Ma con i lego è un solo sintagma che io posso tagliare e andare ad incollarmi qui sotto anche in questo caso lo rimpicciolisco un po' così si vede meglio ok? Marco gioca con i lego benissimo di frasi ne faremo molte altre ci alleneremo insieme nella lezione che facciamo su Meet vi lascio però per finire questo esercizio scrivete le frasi della prossima pagina su delle strisce di carta se prendete se prendete un foglio a quattro un foglio normale come quello del quaderno lo potete tenere in orizzontale e tagliare delle strisce un pochettino lunghe ritagliate i diversi sintagmi posizionateli sulla testa e sui tentacoli del polipo al posto giusto ovviamente eh fotografate il lavoro e caricatelo su Classroom così io posso vedere se avete capito come si fa queste che dovreste vedere fra un attimo no non le faccio vedere sono le frasi anche così ecco queste sono le tre frasi che dovete analizzare tagliando i pezzettini di carta i diversi sintagmi e appoggiandoli sul polipo fotografate e mi caricate tutto il lavoro su Classroom ciao ciao a tutti